E ragazzi, sì, ovviamente appena faccio uscire un video news su tutte le notizie più importanti degli ultimi giorni proprio nel momento in cui esce arriva un'altra notizia bomba e infatti sappiamo che Demon Slayer, il film, uscirà in Italia il 13 luglio manca davvero pochissimo e fra l'altro è stato rilasciato un trailer da Amazon Prime Video quindi sì, sappiamo che uscirà lì su Amazon Prime Video e che purtroppo no, non potremo vederlo nelle sale italiane, nei cinema italiani sì, ovviamente questa cosa è abbastanza triste perché mi sarebbe davvero tanto piaciuto poterlo vedere sul grande schermo come è successo in quasi tutti gli altri paesi però dai ragazzi, comunque arriva molto prima del previsto e mi aspettavo tipo che uscisse a settembre, ottobre, poco prima magari della seconda stagione e invece, invece arriva, ovviamente doppiato in italiano, potete vederlo dal trailer e... sì ok, i doppiatori sono gli stessi per fortuna quindi doppiaggio italiano di qualità sicuramente l'hanno chiamato il treno Mugen ok la musica di Lisa sempre fenomenale la CGI un po' discuribile però tutto il resto sarà sicuramente clamoroso ebbene ragazzi, finalmente potremo vederlo finalmente! e tutti quelli che l'hanno visto adesso, almeno cercate di supportarlo adesso che, ehm... uscirà al cinema no, qual è il cinema? magari mi sto lasciando trasportare un po' troppo dalle scene e niente ragazzi, questo è un video molto veloce perché volevo semplicemente ricordarvi che il 13 luglio su Amazon Prime Video uscirà il film doppiato in italiano speriamo che anche la seconda stagione arrivi nel 2021, magari ad ottobre però la conferma ufficiale ancora non c'è detto questo, vi aspetto alle ore 21.30 in live su Twitch il link è qua sotto perché andremo a vedere un po' quali sono tutti gli anime estivi stagionali che usciranno appunto fra qualche settimana lasciate un mi piace, seguite sui vari social e state qua sotto e noi ci vediamo in un prossimo video Ciao!